Dopo il Requiem di Mozart, l'associazione musicale Amadei ritorna nella Cattedrale di San Pietro di Bologna, con un prezioso allestimento della Passione, secondo Matteo, di Johann Sebastian Bach. Si tratta dell'ultimo concerto della stagione per Amadei. L'orchestra sinfonica Gioachino Rossini di Pesaro, diretta dal maestro Juan Miranda, sarà accompagnata dal coro dell'associazione e dal coro Voci Bianche del Teatro Comunale, nel ruolo dell'Evangelista il tenore croato Emanuel Timlienovic, in quello di Gesù il Basso Alessandro Ravasio. La versione che sarà presentata sabato 10 giugno in Cattedrale sarà quella curata da Felix Mendelssohn, che nel 1829 trasse dall'oblio l'opera bacchiana, riconsegnandola al patrimonio della cultura musicale. Sabato 10 giugno, in Cattedrale, La Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach. Per informazioni scrivere a segreteria.amade.com oppure pagina Facebook Amadei Bologna.